sono il sindaco che piacere professore buongiorno dovete essere nostri ospiti grazie pensavamo a un albergo vorremmo concentrarci c'è una casa di amici adatta a voi venite per arrivare dal giappone l'agronomo responsabile dei 28 mila ettari che circondano tokyo vuole parlare con me dei miei progetti riccardo vuole capire il segreto del nostro equilibrio tra crescita e benessere riccardo sono io ma non guarda che ho abbandonato il progetto del vialone con le palme importate da los angeles io vorrei dare a quest'isola l'identità e le tradizioni che loro hanno smarrito e allora piazze strade giardini fontane teatri riccardo guarda che loro non hanno da dormire basta scusate è che io tanti di quei progetti ma vanno tutti a finire male qua sono tutti così ostili perché sono così ostili grazie grazie